Eccocook Palermo L'erba del prof, che cos'è? L'erba del prof è un'azienda agricola a conduzione familiare che coltiva, lavora e produce canapa sativa light, uso alimentare. Ovviamente il tutto a livello naturale, senza pesticidi e senza conservanti, senza aggiunta di niente. Naturale assolutamente. E con questa erba che viene trattata in qualche altro modo si fanno tante cose. Cosa si può fare? Allora, con questa erba che viene trattata in un certo modo, noi riusciamo a lavorare benissimo i prodotti alimentari. Partendo dalla pasta al biscotto di mandorla, alle barrette energetiche alla mandorla in miele. Perché viene aggiunto con una percentuale bassa, mi sembra il 2%? Sì, viene aggiunto con una percentuale bassa, questa farina totalmente integrale di canapa, ricchissima di omega 3 e omega 6. È anche ricca di cannabinoidi, è anche ricca di tutti e 8 gli aminoacidi essenziali alla rigenerazione cellulare. Quindi il prodotto non è soltanto buono, ma è un prodotto che fa bene. Quindi, tornando ad essere ancora più cattivi, non fa male come dicevano, ma fa bene, fa molto bene. Sì, non fa assolutamente male, ma fa tanto bene, anche perché tutti i prodotti sono privi di THC. Quindi non hanno nessun effetto psicotropo. Come viene coltivata questa canapa? La canapa viene coltivata a livello naturale, nel modo più assoluto. Tant'è vero che nei terreni in cui noi la andiamo a coltivare non mettiamo neanche concimazione. Ma neanche anticrittogamici, non c'è bisogno di curarla? Assolutamente no, perché questa pianta è una pianta che si cura da sola. Noi nelle nostre piantagioni, visto che facciamo semi, lasciamo stare i famosi maschi. I famosi maschi eliminano o quantomeno tengono lontani gli insetti e quindi la pianta non viene attaccata da nessun tipo di insetto. La tua azienda si trova vicino a Ragusa? Sì, la mia azienda si trova a Ragusa, esattamente. E le piantagioni le facciamo tutte in provincia di Ragusa grazie a una bella collaborazione che è nata in questi anni. I prodotti che fate dove vanno? A chi li vendi? I prodotti che facciamo in questo momento li vendiamo con l'e-commerce, quindi online e vanno un po' in tutto il mondo. Poi adesso col digitale, con l'internet, diciamo veramente possono andare in tutto il mondo? Sì, adesso grazie all'internet e grazie a questo digitale che è semplicemente meraviglioso, riusciamo ad arrivare in qualunque parte del mondo. Ma tra dieci anni la tua azienda dove sarà? Non lo so, perché io spero fra dieci anni di essere un attimino alle UAE, alle Seascelle, lascio tutto ai miei figli e mi vado a riposare un po', voglio dire. Vero aiutarti. Ciao Giovanni. Ciao, buona serata, grazie.